La giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre nasce da ricordo di un tragico episodio di oltre 60 anni fa a Santo Domingo che in questa data avvenne ma ha una radice che potremmo portare indietro nel tempo fino a chissà quando. Per questo ha la necessità di essere celebrata ogni anno in tutto il mondo perché ovunque l'uomo giovane o maturo per motivi sessuali sentimentali sociali o quant'altro esercita una manifestazione di supremazia sulle donne che spesso sfocia in violenza se non peggio con epiloghi tragici. Ma se gli episodi siano più o meno violenti nel tempo attuale sono solo fenomeni di un'ancestrale esigenza di predominio che è credo ormai sia fuori dal tempo qualunque sia la cultura o la religione dei soggetti. Noi uomini dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo insegnare ai nostri figli maschi che non esiste un predominio o supremazia di genere e alle nostre figlie dobbiamo insegnare a capire che certi cordoni che le potrebbero legare in rapporti difficili e pericolosi è meglio reciderli quando iniziano manifestarsi insicuri qualunque sia il costo. La politica ha le chiavi per governare gli eventi ma deve aiutare i centri antiviolenza economicamente e non tagliare i pochi fondi come avviene da troppi anni in tutta Italia. Poi ha la possibilità di intervenire contro quella cultura dell'oggetto e cultura mercantile della donna che tanto influenza negativamente i rapporti di genere. In Italia quasi ogni giorno una donna muore vittima di un femminicidio. Un paese che tollera questa condizione non è un paese democratico e non è un paese civile. Dobbiamo lottare da tutti i punti di vista sotto il profilo dell'impegno legislativo, sotto il profilo dell'impegno nell'investimento in servizi, sotto il profilo di una grande azione culturale per consegnare una volta per tutte il femminicidio al passato, per fare in modo che la condizione della donna non possa essere motivo da parte del maschio di esercitare abusi e atti di sottomissione. È un impegno che riguarda tutte e tutti. È un impegno che deve essere fatto proprio da tutte le forze politiche, da tutti i movimenti civili, da tutte le associazioni di questo paese, perché fin tanto che la piaga del femminicidio continuerà a interessare questo paese, questo paese sarà ancora costretto a fare molti passi avanti per diventare un paese civile. In occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mi piace ricordare l'impegno per la realizzazione di una legge contro la violenza di genere, che fu realizzata nel Consiglio regionale nella scorsa legislatura, una legge che ha consentito il finanziamento dei centri antiviolenza in tutta la regione. Purtroppo non sempre questa legge viene adeguatamente finanziata. Ancora in questi giorni i femminicidi è una tragedia che colpisce tante donne. È ora dire basta alle violenze fisiche, è ora dire basta alle violenze verbali, alle violenze psicologiche, alle violenze economiche e sociali contro l'altra metà del cielo. Dobbiamo saper scuotere le coscienze, dobbiamo continuare a mobilitarci. Non possiamo farci vincere dallo sconforto, non possiamo arrenderci, un paese civile non può arrendersi. Combattere queste violenze riguarda tutti. Partecipiamo alle tante manifestazioni che si riterranno al 25 novembre e non sia solo per una giornata, dobbiamo fare di più e che questa nostra voce può rompere il silenzio che accompagna la vita e la solitudine di tante donne uniti contro le violenze. Ciao a tutte e a tutti. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna ho voluto prendere un estratto dall'ultimo libro di Michela Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire. Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Che cosa c'è dietro questa frase? Per quale motivo le conseguenze di uno Stai zitta sono talmente minime da far pensare a tutti coloro che ascoltano che si tratti di una relazione normale nella dialettica con persone di sesso femminile? È come se nella testa di tutti e di tutte ci fosse qualcosa di molto fastidioso nell'idea che una donna possa non solo avere un'opinione ma addirittura contrapporre questa opinione a quella di un uomo. Per cui se lo fa che si prenda anche le conseguenze che ne derivino. Lo hai provocato? Mi sono sentita dire. Quindi una donna che parla in contraddittorio provoca. Sei una cantante e dici la tua sui migrati? Continua a cantare e stai zitta. Sei una scrittrice e fai un commento su come il governo gestisce l'emergenza pandemica? Scrivi i tuoi libri e per il resto stai zitta. Fai l'attrice e rilasci una dichiarazione sulle scelte collettive per fermare il cambiamento climatico? Eri meglio quando facevi i film e stavi zitta. Quindi la donna socialmente gradita è una donna silenziosa. Ecco perché io Sandro Quadrelli sto con Michela Murgia e con tutte quelle donne a cui qualcuno ha detto stai zitta. 25 novembre 2021 giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci.